4 ma la parte 3 fare questo trovo quel pisciolo del te quel pisciolo del te quel pisciolo del te eeeh eeeh e mannaga buttana uno così o questo te peggio o questo te peggio lo vedi che esce a testa di cazzo bastardo coglione di te cuglioni in merda che non l'ho riuscita in terra eeeh mamma mia che va cercando ah il pisciolo del te il pisciolino non hai il bambino del pisciolino eccolo qua il pisciolino non hai il pisciolino anche se forse a bambino va allora che ci vuole più di una buona cosa ma non certo per mettere il disegnare il gruppo però potrebbe unissimo essere che c'è invece non dica di nemmo quindi è giù il suo discorso facciamo un discorso tutti questi ne lo sei ah Gio, c'è l'aereo non c'è l'aereo, non fatti guarda, guarda che abbiamo fatto non perdi mai lui questo parlo mi resta tutta te la fine la logica è tanto guarda, non c'è senti i discorsi di Pedro ci commettiamo che non fatti io non capisco ma non è che possiamo andare contro Martina sbagliato, sbagliato perché allora facciamo noi gli altri Gio, buttiamola da qualche parte mannare all'ostia Dio, mannare all'ostia solo un pochino ne dobbiamo contare Gio no vieni, vieni qua diciamo che moriamo con tessana mannare all'ostia ma vuol dire che sta facendo questa cosa Gio eh mannare all'ostia 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 non c'è non c'è ma c'è tutte le due persone tieni, c'è la cazza po' c'è capo come nonno si mannare all'ostia ma una canna una canna mannare all'ostia che non mi piace finiscila che non lo sai fare finiscila che non è cazzo il tuo proprio finisci da il mio giovanile ancora devo scaricare ancora se non ne metterò ancora un po' ho detto mi è nata questo pezzo si, voglio usare due belle lezze un momento in aprioso quando facciamo una tesana mi hanno detto che si fanno un mirtillo per fare un mirtillo non mi ha detto che non mi ha detto più non mi ha detto più perchè non non è la F se ne abbottura no queste qua non fanno lo schifo questo buono mangitele da due stelle 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 questo è buonissimo questo è il di siena io lo porto in un siena mio padre ma io ti dobbiamo proprio più ma io sono un giuseppi sono buono ma stia mia mangitele ma ti provali ai oddio il sapore di siena ti piace il picciolo la quello rotondo con lo zucchero al vero di sopra ma io ti lo fanno schifo provali se ti piace quel picciolo rotondo se ti piace quel picciolo rotondo ti piacciono questi si è tipo una stazzola è tipo una manetta che c'è arancia mandarino un bambino però dai io la ghettano che se la mangia io ti do un'altra cosa più dolce più che tanto se la riesce a mangiare dai calatelo io sono proprio la lansia questo è Ritz chissi te le mangi due? no come no? no ma io la metto di dieta qua ce la la voglio la gliene di merda questa dieta e la conzucco in questo piano come cala poltentelo... la lansia la valuto di zucchero la valuto di zucchero